pace e bene cari amici bentrovati in questa quinta domenica del tempo ordinario proseguiamo con il cosiddetto discorso della montagna il discorso inaugurale il primo dei cinque grandi discorsi che scandiscono il vangelo secondo matteo dopo aver accolto le beatitudini ovvero sia la condizione nuova dei figli di dio oggi gesù ci dice chi è il suo discepolo che vive nel mondo secondo lo stile delle beatitudini e sale della terra e luce del mondo io direi di partire da una categoria che è quella dello stupore ecco voi pensate lo stupore che prova il cuore quando una persona cara ti dice tu sei la luce dei miei occhi tu dai senso alla mia vita lasciamoci stupire dal fatto che a dirci queste parole non è una persona qualsiasi ma gesù il figlio di dio stesso che dice a noi suoi discepoli queste parole tu sei sale tu sei luce voi siete in greco abbiamo iumais este verbo essere indicativo presente seconda persona plurale non facciamo scuola di grammatica solo per dirvi che gesù sta facendo una affermazione dice voi siete è la proclamazione di un dono che ci viene fatto tu sei sale e luce non dice voi dovete essere versione moraleggiante neanche voi sarete al futuro neanche siate né tantomeno voi siete se no dice voi siete una affermazione alla luce di questo stupore lasciamoci anche aiutare a vivere in modo diverso la nostra vita quotidiana perché tanti cristiani vivono la loro quotidianità diciamo così un passo indietro c'è chi pensa alla fede come qualcosa di intimistico esclusivamente interiore o personale quasi qualcosa di cui vergognarsi come se togliesse qualcosa agli occhi degli altri specie tra i giovani altri vivono un passo indietro nel senso che si preoccupano unicamente di non sbagliare queste parole di gesù invece ci danno una prospettiva uno stile diverso col quale vivere la quotidianità ci dice ma guarda che io ti ho messo lì in quella famiglia in quel contesto in quella parrocchia in quel lavoro in quella comunità per essere sale e luce proviamo ad andare un po' più in profondità il sale era usato per condire i cibi come anche oggi per dargli sapore era anche usato per conservare gli alimenti non c'erano infatti i frigoriferi era usato per cauterizzare le ferite come fertilizzante addirittura come paga per i soldati inoltre simbolicamente era usato per significare delle alleanze contratte o da contrarre e quindi richiamava anche l'alleanza tra dio e l'uomo probabilmente gesù allude a tutta questa vasta gamma di significati e possiamo intuire che portata esistenziale abbia questo voi siete il sale della terra voi siete ciò che dà sapore di eternità sapore di dio alla realtà voi che custodite vivete la mia parola siete ciò che insaporisce con la sapienza del vangelo la vita umana perché d'altronde senza la meraviglia della risurrezione senza l'amore svelato nella sua realtà più profonda ma quale senso avrebbe la vita umana la morte il male il peccato quale risposta alle domande di senso più profonde e non solo voi siete il sale ciò che preserva dal disfacimento dalla corruzione ciò che evita che nella vita umana si propaghi il male che ci sia il disfacimento dei valori più belli che regni la sopraffazione la violenza la corruzione voi siete custodi della bellezza cultori della vita nella sua dimensione più profonda e ancora voi siete il sale dell'alleanza ciò che richiama quanto sia bello vivere alleati con dio c'è però un pericolo vedete che gesù ci dice subito dopo che il sale perda sapore è interessante perché il termine che Matteo usa è diventare stolto questo termine lo userà al capitolo 7 alla fine del discorso della montagna quando dirà che l'uomo stolto è colui che costruisce la sua casa sulla sabbia cioè che ascolta ma non mette in pratica la parola di gesù arrivano le tempeste le prove della vita e la casa crolla ed è distrutta ecco c'è un rischio che questa parola ascoltata non venga accolta e poi vissuta il rischio dunque di perdere sapore di diventare stolti insipidi senza gusto e ci dice gesù se il sale perde il suo sapore non serve a niente solo ad essere gettato via e calpestato usa termini forti che sono la triste realtà perché perché quante volte sentiamo delle persone che non frequentano le chiese criticare la vita dei cristiani e dire ma perché ci devo andare in chiesa se poi quelli che vedo fuori fanno il male meglio io che non ci vado ma almeno che cerco di fare del bene ora al di là dei luoghi comuni dietro le critiche di tanti giovani dietro le critiche mosse anche a noi sacerdoti quando ci vedono mondani quando ci vedono vivere una vita dissoluta attaccati ai soldi c'è il desiderio della bellezza perché le persone anche ate un minimo sentore di cristo e dell'altezza della sua vita e delle sue parole ce l'hanno e si aspetterebbero di vedere qualcosa di più da noi credenti praticanti questo non vuol dire che bisogna essere infallibili ma almeno cercare nel nostro piccolo di essere autentici di vivere ciò in cui crediamo altrimenti è normale che verremo calpestati che verremo criticati addirittura un famoso filosofo ateo diceva una frase che per me è bella fa riflettere nice diceva ma se la buona novella della bibbia fosse anche scritta sul vostro volto voi non avreste bisogno di insistere perché si creda all'autorità di questo libro le vostre opere le vostre azioni le vostre scelte dovrebbero renderlo quasi visibile perché voi stessi sareste la bibbia vivente fa riflettere successivamente gesù usa un'altra immagine molto bella dice voi siete la luce del mondo pensate la luce è lui in giovanni 8 12 gesù stesso dirà io sono la luce del mondo qui applica l'immagine della luce suoi discepoli come una città posta su un monte non la si può nascondere ma si vede così è la vita di una comunità credente cioè una comunità che vive il vangelo che evangelizza che si prende cura degli altri che si dedica ai poveri e luce cioè si vede è visibile non la si può nascondere qui capite non si tratta di mettersi in mostra così è anche per la vita del discepolo se c'è cristo nella mia vita se vivo la sua parola e cammino nella fede man mano si vedrà e la sua luce passerà attraverso le mie parole la mia vita e sarà luce per altri non perché vuoi metterti in mostra ma perché cristo agirà per mezzo tuo papa benedetto diceva che come la corrente elettrica non si vede agli occhi ma se ne vedono gli effetti quando accendi la luce così è la presenza di dio nella nostra vita tu non lo vedi con gli occhi ma ne vedi gli effetti quando lui davvero regna nel tuo cuore ed ecco perché gesù alla fine ci dirà gli uomini vedano le vostre opere buone e rendano gloria al padre ecco qui qual è la vita del credente una vita vissuta in comunione con cristo una vita vissuta da figlio di dio e dunque da fratello e sorella degli altri una vita che quando gli altri la vedono possono arrivare a dire ma guarda che bello tale padre tale figlio guarda che meraviglia in questa persona vedo dio all'opera concludo con una testimonianza che mi è sempre rimasta nel cuore eravamo in una missione di strada e andiamo a trovare in una famiglia una ragazza ammalata ci parlarono di lei una ragazza sui 30 anni allettata per una malattia tipo la sla e che questa ragazza ci dissero ormai poteva solo più parlare e muovere la testa allora entrando pregavo il signore di ispirarmi le parole che potevano servire quando la incontrai fui io a uscirne arricchito trovai una ragazza piena di luce di gioia questa ragazza mi guardò e mi disse io ho dato il mio cuore a gesù e dio è gioia e io lo amo ma io mi chiedo fuori la portiamo agli altri questa gioia ecco la vita del cristiano una vita che quando tu la vedi dici sia resa gloria a dio padre capace di fare queste meraviglie nei suoi figli pace e bene a tutti